Hello ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono JD e oggi siamo finalmente tornati su Fallout 3 Allora, ero rimassa che... Scusate, mi ho freddo e ho la coperta, perché... Allora, ero rimassa che dovevo uccidere il tizio Io adesso non so come farò Cioè... Allora Mappa globale... No, allora Mi ricordo... Armi Che avevo preso il... Come si chiamava? Il Fatman Il Fatman, tipo si chiamava? È possibile? Eccolo qui! Con un cazzo di munizione Allora, questo coso qua fa 5 instant 3 danno Quindi circa io potrei farcela La vedo dura Dov'è il mostro? Eccolo Porco di... Mi ho fatto esplodere tutto Porca... Scusate... Scusate... Sì... E mo... Ah... Ecco! È morto! Sono... Quanti sei? Ok, va bene Bello, bello, bello Bello, munizioni Bello Munizioni, bello Munizioni Bello Allora Io non mi ricordo più dove dove doveva andare Di qua Giusto? Non mi dispiace No, vabbè Allora Devo Entrare Come chiave È necessaria No, Mun Cazzo sta la chiave Ciao Parla Madonna Ti spara in faccia Cosa sta succedendo? Chi ci sta sparando? Ma io non capisco Non lo so Lo devo seguire Vabbò Io lo seguo Vaffanculo E con questo? Che cosa ci fa? Che cosa ci fai? Lì dentro Che cosa? Ma io non l'ho vista Che cosa? Sì, è proprio Bellissimo È proprio molto bello Allora Mi serve la chiave Porca troia Aia Non mi ricordo Come ci si abbassa Non l'ho salvato Non l'ho salvato Merda No No No, minchia Lo devo riuscidere Lo devo riuscidere No No Ti prego Non ti pagare Allora Mi serve Quella cazzo di chiave Ma io Quella chiave Dove la trovo? Dove la trovo? La chiave Dai Mi Che Polla Uffa Non so dove trovarla Chissà poi perché mi hanno attaccato Con gli stronzi Ho idea Che la chiave Possa Allora Vi vediamo un secondo Un po' quanto Mi finisse spaccate Io non posso entrare Qui ho bisogno Di una chiave Dovevo parlare Sabotaggio Grazie Devo parlare Da Trecani Grazie Sì 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 E chi vuole interferire? Trecani Fatto Sara È possibile che sia di qua? Salvataggio Sì Sarà sicuramente di qua Anche se Un'occhiata alla tua faccia Dice tutto Ti starai chiedendo Chi diavolo sia questo tipo E perché dovresti stare a sentirlo Lascia che ti luvi Lascia che ti luvi Vabbè Sono Trecani Sono Trecani Faccio il disgioco E tu? Beh So chi sei So chi sei Ti dice che hai lasciato Quel vault Per attraversare l'ignoto Proprio con il tuo vecchio Caro papà Non si Porca vacca Non so Sì Allora Conoscimi il padre Ehi Una cosa alla volta No Il tuo vecchio Non è qui Non più Quanto ti devo cercare Papà? Se vuoi aiuto Devi contribu- Va bene Tu vuoi trovare il tuo papà E il caso vuole Che la sua posizione Sia nota al sottoscritto È stato qui A Galaxy News Abbiamo fatto una bella chiacchierata È un tipo davvero risoluto Se vuoi saperne di più Dovrai Ah Eh vabbè Tanto io penso Ce ne ho troppa poca Galaxy News Radio È la mia bambina Sai Va bene Qualche super mutante De cerebra Sì Capisco Posso trovare con luce Non mi piace In prevento Come sono Vieni al sodo Visto che sei troppo impaziente Per stare a Il ripetitore sul Washington Monument Deve essere sostituito Ed esiste solo un pezzo di ricamo È la parabola Del modulo di atterraggio lunare Virgo 2 Del museo di tecnologia Che cazzo è Ah Eh affare fatto Certo Io so come procurarli Stai per rappresentare La miglior cosa Che sia capitata A Galaxy Se avessi bisogno di Se avessi bisogno di Va bene Devo andare Prima vedo Oh Non posso Achiggiare niente Vero Ah posso dormire Però Però dormiamo Tipo facciamo Sette ore Non posso fare Più ore o meno ore Ah ok Tre ore Dormi Almeno mi si è ricaricata la vita E sono a posto Sta salvando Quindi La storia è Che mo Missioni Tra un museo Il museo Sta Il museo Sta Il museo Il museo Di tecnologia Bravi Giusto Allora Proviamoci Non vedo Perché no E Quanto è Infietante Ma posso Entrare No Se non avrei visto Se c'era qualcosa Da Hai scoperto Ho scoperto Ok Ok Qui Non ho ucciso Niente Nessuno Quindi Oh C'è l'assalto Fa almeno Un po' Più di danno Quindi via Adentriamoci Di nuovo No Eccolo 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 Yes Grazie 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 Ma sono Dall'altra Ciao Benissimo Scusami Come è Come è possibile Che se io Provo Chiave inglese Denaro Prebellico Come è possibile Che se io Sparo Mirandolo C'è il cazzillo Rosso Lui spara Da tutt'altra Da tutt'altra parte Ehm Come me lo spiegate Uh Cabo Cabo Cammino sui tubi Come è possibile Che io faccia Più rumore Camminando Silenziosamente Che normalmente Non lo so Non ho intenzione Di entrare lì dentro Perché Oh Porca Cattrottina Oh Punto Ma come non sei morto Oh Oh Forcina Sì Sì Forcina mi serve Tappo Va benissimo Allora Oh Povero Chi sei Oh Mi spiace Mi spiace Ma Ma aspetta Tipo io posso lasciarti qualcosa Perché tanto Bottiglia Di vota soda Peso Peso niente Peso Trenta E ma il fat man Mi serve Ancora delle munizioni Peso quattro Fucile a canne mozze E non ho Cose Bene Ah è vero Che avevo ancora troppi fucile a caccia Fucile a cecchino Che non ho più cose Fucile a laser Ghiandola Peso 15 Lancia fiamme Metto via questo Lattina Voilà Finito Credo che per adesso Possa andare tutto bene Non so Probabilmente Io devo continuare A questo lato Arrivo alla prossima porta E poi stacco Anche se Se posso aver fatto Un po' poco No ti prego Non dimmi che Che sto tornando Dove No non è possibile Ho ferito le scale Non le ho riscese No Ah Hai scoperto Il nuovo posto Allora Dati mappo globale Ah Ok Ok Ah no E' questo qua Devo Prima andare qui Buono 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 Chi c'è lì Non so perché Ma credo che mi ammazzo Se mi avvicino troppo Quindi Io direi Che possiamo finire qui Se il video vi è piaciuto Lasciate un bel like Commentate Condividete Soprattutto Iscrivetevi Noi ci rivediamo In un prossimo video Dove Spero di andare avanti Spero di finire Questo gioco in fretta Perché Sto avendo troppo infarto E questa cosa Non va bene Ciao Non ho salvato